Questa bellissima cucciolina si chiama Vanessa ed è stata abbandonata quando aveva meno di due mesi qui in Canile, solo che non stava bene e non avevamo potuto proporla in adozione. Oggi Vanessa ha poco più di tre mesi ed è una bellissima cucciola di futura taglia media, una lupettina molto dolce e affettuosa giocherellona. Siccome era piccolina quando è arrivata e aveva tanto bisogno ancora della mamma, è stata allevata da questa bellissima bassottina di nome Frida. Adesso però è passata nel box con gli altri cuccioletti della sua età perché è giusto che lei giochi con i piccini come lei. Bellissima questa cucciola. È stata troppo tempo in Canile ormai ed è giusto che trovi anche lei una bella famiglia. Queste sono le prime foto e il primo video che le facciamo. È vero Vanessa? Come sei bella con quella striscia bianca sulla fronte sul muso. E il rosa, siccome tu sei nera, ti sta benissimo, spicca tantissimo. Piccina. La vuoi una bella famiglia? Sei calma, dolce. Non cresci tanto, sei di taglia media, non medio piccola, media normale. Quindi pensiamo che raggiungerai 20 kg, non di più però. Piccolina. La lupettina, la lupettina. Che fai Vanessa? Non ti piace stare sul mobile? Vuoi saltare giù? No, è pericoloso. Ora ti mettiamo noi giù. Vuoi andare da Frida? Che da tanto tempo che non stai con lei? Vai, vai da Frida, vai da Frida. Frida è una meraviglia di cagnolina. Anche lei in cerca di adozione. Non hai visto che c'è la cagnolina nuova oggi? Ecco, vedi quanto vuoi bene a Frida. È stata la tua mamma. Invece questa povera cucciolina qui non ha una mamma. L'hanno strappata prestissimo. Ciao Vanessa. Ciao. Adesso avrai una mamma umana. Molto presto. Ciao.